Seconda puntata di Dragon Ball Diamond, analisi accuratissima che accorperemo insieme a quella della puntata 3. Questo perché voglio darmi un po' di tempo tra le puntate, nonostante comunque ogni settimana escano tanti video dedicati alla puntata della settimana, ovviamente, però mi è sembrato che non sia successo tanto, cioè la mole di informazioni presente in questa puntata è comunque considerevole, soprattutto dal punto di vista della lore, però la messa in scena di determinate cose non mi è piaciuta tanto, infatti ho un po' di critiche da fare ma le muoverò dopo e poi accorperemo anche quello che succederà nella terza puntata che in questo momento in cui giro quella della seconda non ho ancora visto. Dedichiamoci all'analisi di questa seconda puntata dove sono successe varie cosine interessanti. Esploriamo ancora di più la lore delle sfere del Drago della Terra perché Shenlong non può esaudire tre desideri alle persone che lo richiamano ma che lui non conosce, tipo se è la prima volta che tu lo evochi avrai un solo desiderio su tre. Ora, questa roba qua è una retcon? È un'incongruenza con ciò che è stato raccontato dopo? Sempre da Akira Toriyama? Parliamo dei film di Dragon Ball Z dei 2010? Oppure di Dragon Ball Super? Vabbè, secondo me bisogna sempre tenere conto del fatto che Daima è una storia a sé. Cioè io non devo per forza incastrarla in tutte le timeline, in tutte le storie di Dragon Ball. Cioè se vogliamo possiamo farlo naturalmente e cominciamo a trovare tutti i buchi di trama che volete. Però io non la vedo come una cosa tanto grave questa, anche perché ha un senso. Cioè potrebbe pure essere che Dende, in un momento della storia di Dragon Ball, ha deciso di dare questo limite a Shenlong proprio per evitare che qualcuno potesse abusare delle sfere del Drago. E infatti avevamo detto proprio questo, che non sarebbero riusciti a esaudire tutti e tre i desideri per qualche motivo che non ci sapevamo spiegare e che sinceramente non ci sarei mai arrivato che poteva essere questa cosa qua, perché è letteralmente una regola tirata fuori dal cilindro. Però va bene, non va a pestare i piedi ad altre cose. Neba dice che non può rifare di nuovo il rituale di evocare le sfere, richiamare Shenlong, nemmeno lui lo può fare due volte in un giorno. E questa cosa qua mi è sembrata strana perché potrebbe rimettere in discussione tutto il personaggio. È cattivo? Non è cattivo? È mellifluo. Ha fatto apposta? Ha fatto per evitare che Goma e i suoi potessero ottenere l'Oculus Tertiarium? Chi lo sa, lo scopriremo soltanto guardando Dragon Ball Dime. Comunque, in ogni caso, loro rapiscono Dende che è diventato un neonato, che vuole giocare con Degesu, poi dai pugnetti, poi si addormenta col pollice in bocca, e vediamo Mr. Popo che è diventato bambino. Ecco, lì io ho sentito la sceneggiatura, ho sentito i produttori. Che cosa significa? Quando si vuol far ritornare un personaggio scomodo, in qualche modo lo devi cambiare. Mr. Popo è sempre stato un personaggio associato a, purtroppo, una rappresentazione razzista di un uomo di colore, perché prima si faceva così, perché prima queste cose erano tollerate. Ora, è cambiata la sensibilità delle persone, non c'entra niente in politically correct. Si tratta semplicemente di vivere in una società dove abbiamo più a cuore anche gli altri, capiamo meglio le esigenze degli altri, e non dobbiamo per forza prendere in giro chiunque per tutto quello che sono o che fanno. Quindi, che cosa hanno pensato di fare per riportare in auge Mr. Popo? Quando viene rimpicciolito, lui perde il turbante e vediamo che sotto ha due corna. Quindi adesso non è più uno stereotipo razzista, ma si tratta invece di un personaggio magico. Potrebbe essere anche un demone che viene dal regno demoniaco e non sa nemmeno lui di esserlo. Quindi, guardate, non si tratta di quello che avete sempre pensato voi, ma in realtà si tratta di un personaggio diverso. Ecco, questa roba qua significa sentire la sceneggiatura, sentire i produttori. È letteralmente una cosa fatta apposta per riportare Mr. Popo ed evitare che la gente si arrabbi nel vedere questo character. Ora, io capisco e va bene, solo che lo sento troppo e questa è la mia critica. Naturalmente anche tutti gli altri personaggi di Dragon Ball sono diventati bambini. O meglio, anche rimpiccioliti. È proprio Krillin che fa questa battuta metanarrativa perché guardandosi intorno dice «Guarda, alcuni personaggi è vero che sembrano bambini, altri invece sembrano soltanto diventati più piccoli». Ecco, io credo che anche qui Shenlong sia andato un po' ad interpretazione, nel senso avrà preso questi personaggi e non li ha fatti tornare indietro nel tempo, ma semplicemente li ha messi nel loro corpo di questo momento di Dragon Ball Diamond, però se fossero bambini. Mi sono dato questa spiegazione perché, altrimenti, perché Muten dovrebbe essere pelato da bambino? E perché Krillin non dovrebbe avere i capelli da bambino? O tante altre cose che sono un pochino diverse, un pochino strane? Perché Yamcha ha già le cicatrici? Come mai? Tutte queste domande che nascono e possono portare a delle incongruenze, beh, secondo me questa roba qua è fatta pure per far sorridere, per farti ridere un po' e per rendere soprattutto i personaggi più riconoscibili, perché se fossero tornati davvero alle loro età, Piccolo dovrebbe essere alto comunque 3 metri, perché appena nato, insomma, al primo torneo Tuenkaichi dove partecipa, lui è già 2 metri. Finalmente abbiamo anche la sigla, che nella prima puntata non c'era, l'ho vista e mi sono veramente innamorato, è bella, ritmatica, ma c'ha un po' di malinconia, infatti ogni tanto si vedono delle scene che sono un pochino tristi, tralasciando proprio l'inizio, dove si vede la mano di Goku tesa verso le sfere del drago del regno demoniaco, che si rimpicciolisce e diventa la mano di un bambino, poi vediamo lui immerso in mezzo alle piume, che galleggia in aria con le piume, ecco questa cosa qua mi ha fatto pensare che magari può essere un omaggio ad Akira Toriyama, al Bird Studio, lo studio uccello, quindi le piume degli uccelli legate a Toriyama, tra l'altro prima di diventare Toribot la sua rappresentazione era sempre quella di un uccello, quindi potrebbe essere, se lo fosse davvero, grande applauso per Toei che ha fatto un omaggio meraviglioso. All'inizio della sigla poi c'è nel regno demoniaco un bastone con un drappo blu appeso che svolazza nel vento, quella roba là può essere una cosa interessante, può essere forse la tomba di qualche personaggio legato, che ne so, magari a Glorio, che forse cerca vendetta per quel personaggio lì che è venuto a mancare, mi è piaciuto molto vedere l'interazione tra piccolo e Vegeta, che è una cosa che nella serie non si vede quasi mai, cioè a meno che non lo facciano per prendersi a parole, di solito non discutono per capire che piano attuare, e questa roba è davvero bella. Mi ricordo nei film di Dragon Ball Z spesso finivano insieme sul finale di quel film cinematografico specifico, dove c'erano anche loro, e boh, per qualche motivo si giocava sulla loro dualità, sul fatto che fossero entrambi molto taciturni, austeri, era particolare da vedere. Spesso a braccia incrociate tutte e due, schiena contro schiena, tutte ste robine qua anche divertenti da vedere. Le frasi di piccolo sono un po' sibilline però, attenzione, perché quando trovano Mr. Popo gli chiedono dente che fino a fatto è stato rapito da queste persone, lui capisce subito che si tratta di Neba, un leggendario nameciano, e spiega un po' la storia di questo personaggio, solo che la spiega in una maniera che non è chiarissima, perché dice è il leggendario nameciano che è rimasto nel regno demoniaco e sta lì con le sfere del drago. Ora, sta lì per proteggerle? Poi gli fanno pure la domanda, e perché i nameciani se ne sono andati? Perché i nameciani non vogliono essere comandati. Questa frase qua può essere interpretata in tanti modi. Non vogliono essere comandati da un re del regno demoniaco, o non vogliono essere comandati da Neba. Quindi queste cose che Neba sta facendo, le sta facendo perché ha un secondo fine, ha un obiettivo che più avanti si realizzerà, sta facendo il doppio gioco, in realtà è buono, non è chiaro, e naturalmente bisogna anche giocare su questo, sul fatto che noi ci interroghiamo su questi personaggi, e devo dire la verità, ci stanno riuscendo piuttosto bene. Si fa anche una precisazione sulle creature del regno demoniaco, non tutti quelli che hanno le orecchie a punta vengono dal regno demoniaco, però la maggior parte si può immaginare che sia così. E infatti quando si dice questo si vedono proprio Piccolo e Mister Popo, il che mi fa presupporre che pure Mister Popo sia parte del regno demoniaco, però magari non lo sa, non se lo ricorda, la sua famiglia sarà scappata migliaia di anni fa e va a capire se lui lo sa oppure no. Quello su cui dovremmo poi interrogarci invece è proprio Kaioshin che quando scopre che si tratta di un piano organizzato insieme a The Guess e poi c'è Goma, e beh lì si preoccupa tantissimo, tanto che deve andare a prendere la sua navicella originale. Perché è chiaro che Kaioshin insieme agli altri viene dal regno demoniaco e si è poi spostato nel regno dove vivono anche i Kaioshin e i mortali. Prende questa navicella e scopriamo che è stata un po' danneggiata dallo scontro tra Goku, Vegeta e Kid Buu. Infatti si vedono di nuovo delle bellissime immagini ferme riprese precisamente dal manga. Ce le vogliamo guardare al volo? Vabbè ragazzi ma che dobbiamo dire di questi frame? Ma sono incredibili. Sono delle still quindi sempre immobili che ci riportano direttamente al manga. Ecco vedete sono praticamente identiche queste scene. Io le ho adorate e mi è piaciuto anche tanto una cosa. Prima di tutto l'utilizzo dei colori perché così tutto desaturato mi fa davvero sentire di essere in un ricordo. Ecco nel passato anche se non è poi passato così tanto tempo in realtà tra lo scontro con Kid Buu e questo momento di Dragon Ball Diamond. Mi piacciono tanto anche gli impatti. Ecco questa cosa tipica dei manga, anche degli anime, quegli impatti colorati, esagerati, sono veramente fighi e adoro il fatto che Majin Buu abbia recuperato le mani così come ce le ha nel manga perché se ci fate caso nell'anime Kid Buu ha proprio le dita ma anche Super Buu. Lo avevano disegnato in una maniera diversa invece qui si vede che è davvero molto coerente con il manga, il che però crea dei problemi non da poco, cioè se volessimo davvero metterlo a confronto con Dragon Ball Z ci renderemo conto che queste scene non possono mai tornare con Dragon Ball Z perché si tratta di un altro personaggio con un character design diverso. Mi piacciono tantissimo qui i colpi guardate come sono diversi. Nel manga per dare un po' più enfasi anche di colore gli impatti erano tutti colorati di rosso, qua invece nell'anime di Daima li hanno fatti con questo colore giallo proprio leggerissimo con un po' di aura intorno. Sono unici, sono davvero fatti bene bene bene. Anche questo momento della Kamehameha non è proprio identico 100%, però la posa è sicuramente quella recuperata dal manga. Secondo me per una questione di anatomia, insomma, per cercare di far quadrare meglio il corpo hanno deciso di disegnarlo in questa maniera. E c'è anche questo colpo di Vegeta che io me lo ricordo proprio stampato in testa, ma infatti non c'era nemmeno bisogno di fare il confronto. Io lo sapevo che anche i raggi elettrici intorno al corpo di Vegeta erano uguali, perché io questa vignetta me la ricordo davvero a memoria. Non so perché, ma mi piaceva tanto, mi piaceva tanto vedere il personaggio che sparava questo colpo su Buu con tutte le sue forze, disegnato in questo modo. Guardate quanto sono stati attenti nel recuperare ogni singola scarica elettrica intorno al corpo di Vegeta e farla davvero identica. Anche la forma delle dita, guardate com'è particolare. Guardate il dito indice che vira un po' verso l'esterno, esattamente come ha fatto Akira Toriyama, leggermente verso l'esterno, leggermente verso l'esterno. È fantastico, troppo bello, bello, bello. Ora arriviamo alla cosa che forse mi è piaciuta meno della puntata, che in realtà è la cosa che è piaciuta di più a tutti, me ne rendo conto e capisco anche l'investimento sentimentale e anche psicologico nei confronti di avere quella immagine di Goku, che poi secondo me non è mai completa al 100%, ma Goku bambino deve avere il bastone. Ora, tralasciandovi questa cosa qua, può essere vera, può non essere vera, a me piace l'idea di un Goku bambino che usa di nuovo il bastone. Non mi è piaciuta la messa in scena di come lo hanno realizzato. Vedere lui che non riesce ad avere familiarità con il suo nuovo corpo, tenta di colpire una colonna, due volte non ci riesce, la terza ci riesce e dice per sopperire a questa mancanza allora vado a prendere il bastone. Va da Karin, il bastone non si trova più, lo ha lasciato da Muten, in custodia Muten lo sta usando per appenderci i panni sporchi. Ora, vabbè, questa cosa è divertente, è Toriamesca che ci riporta naturalmente indietro nel tempo come il ventaglio di banano, che era stato utilizzato come sottopentola, se non sbaglio, sempre nel passato, perché a Toriama piace tanto fare queste battutacce, e che questo va bene, poi vediamo Muten che è diventato ormai il fratellone remita della tartaruga, dove si atteggia allo specchio, si aggiusta i vestiti nuovi, gli occhiali, fa il fighetto, queste cose qua, super divertenti. Però non mi è piaciuto vedere che Goku, che dovrebbe essere maestro di arti marziali, un genio, una persona che si impegna sempre, invece di impegnarsi decide di usare un trucchetto, perché poi alla fine questo è. Cioè il bastone, in questo modo qua, è per sopperire a una sua mancanza, giusto? Allora mi viene anche da chiedermi, visto che hai due giorni di tempo, o meglio, prima che arrivi Glorio ci sono questi due giorni di tempo, perché non li hai passati ad allenarti nella stanza dello spirito e del tempo? Così tanto per dire, non dico tutti e due giorni, magari potevi passare soltanto qualche mese nella stanza dello spirito e del tempo per adattarti, in modo che sarebbero passate poche ore nel mondo esterno. Perché non ha fatto questo invece di andare a prendere il bastone? Che mi sembra una cosa troppo facilona, nonostante a me piaccia, perché a me diverte l'immagine di Goku bambino col bastone, la trovo incompleta, perché ci starebbe bene se stesse anche sulla nuvola Kinto, però chiaramente sappiamo che questa cosa non può succedere, quindi è sempre una cosa a metà. Ecco, vedete, di nuovo quando io sento la sceneggiatura, le forzature, sono in questi momenti che le sento di più. Quando mi viene fatta una critica tipo, ma piccolo come fa a conoscere Neba? Ma da dove gli è venuta fuori questa informazione? Beh, piccolo potrebbe conoscere Neba semplicemente perché si è unito a Nahil, che era il secondo del guru del pianeta Namek, ma potrebbe anche essere semplicemente che l'informazione di Neba è nella mente di tutti i Nameciani, non importa che abbiano dimenticato il loro passato, che siano cresciuti sulla Terra, che siano cresciuti su Namek, o che siano ancora nel regno demoniaco. Lo sanno perché è un'informazione che devono sapere. Per me va bene questa roba qua, non mi interessa. Mi interessa però invece che almeno per il protagonista si mantenga una coerenza. Cioè stiamo parlando della persona che non si arrende mai, che si allena sempre, che se ha una difficoltà la vuole superare, e come la supera? Con un trucchetto che è il bastone, che è solo veramente una manovra nostalgia per mettergli in mano il bastone e farci divertire tutti. E ripeto, mi diverto, ma se mi interrogo un pochettino in più è la fine. Bulma sta cercando di aggiustare questa navicella con l'aiuto di Kibbit, che fa un po' il fattorino avanti e indietro e va a pigliare pure la cena. E quindi, momento, attenzione sul food design. Guardate quanta bella roba c'è sul tavolo. A parte che ci sono sti bao giganteschi, poi vedo un sacco di riso alla cantonese, vedo dei ghiozza, vedo pure qua dei gamberetti, ma guarda quanto sono buoni e deliziosi. Poi qua vedo un'anatra intera, sarà un'anatra. Buonissima. Ma soprattutto si vede una cosa, attenzione, qui c'è un po' di take away, probabilmente degli udon. Bulma ha la birra, Gokua, quella che credo sia una Pepsi del mondo di Dragon Ball. E ripeto, è importante notare queste cose, perché sì, anche Vegeta ha la birra, quindi moglie e marito poi seduti a capotavola, uno di fronte all'altro, come nelle cene più eleganti. E poi guardate quanto sono speculari un po' le cose, però. Perché ci sono Mister Popo e Piccolo che hanno soltanto una bevanda, probabilmente solo acqua. Invece poi ci sono Kibit e Kaioshin che riconfermano, come nell'episodio precedente, di non mangiare, bensì di bere. Qua stanno bevendo del tè. E invece Piccolo e Popo soltanto dell'acqua. Goku poi davanti ci avrà il suo piattone di cose da mangiare. Quindi, è probabile che le creature che vengono dal regno demoniaco non siano in grado di sintetizzare il cibo? E che possono soltanto bere? Questa cosa è molto strana. Indagheremo, continueremo questa nostra ricerca nel food design di Dragon Ball. Cena a parte, com'è, come non è, appare Glorio. Personaggio molto molto affascinante, arriva, si presenta e dice di volere l'aiuto di Goku per andare a sconfiggere Goma. Kaioshin vuole seguirli perché non si fida al 100% di questo ragazzo, perché non è sorpreso dal fatto che loro siano bambini, rivela delle informazioni, dice di essere al servizio di uno dei re del regno demoniaco. E possiamo intuire che il regno demoniaco sia diviso in tre livelli. Però, perché Glorio stava osservando tutto quello che è successo nella saga di Majin Buu da Goma, lo stava spiando per conto del suo re? Oppure lo stava facendo per un altro fine? E se, dico, e se quel bastone che vediamo nella sigla sia una persona che è morte, che Glorio vorrebbe resuscitare grazie alle sfere del drago, ma non può farlo da solo e ha bisogno di Goku e degli altri, ma non glielo vuole dire? Se fosse così, capiamo. Goku, seppur guardingo, è molto deciso, vuole partire per questa avventura. Kaioshin lo segue. Vegeta, Piccolo e Bulma devono aspettare che la navicella sia pronta. Sappiamo che ci volevano almeno dieci giorni, ne sono passati due, quindi passerà poco più di una settimana prima che gli altri personaggi raggiungano Goku e Kaioshin e sappiamo che li raggiungeranno perché nella sigla appaiono tutti quanti insieme. Anche nella ending, che ha tanti rimandi a Dragon Ball GT e ci fa vedere pure un personaggio nuovo che avevamo visto precedentemente nei trailer, quello che sembra un po' un pinguino, tra molte virgolette, che fa questo gesto così con la pinna e, vedete, Goku lo imitano un pochettino. Questa è una cosa tipica di Toriyama perché i suoi personaggi spesso fanno delle pose strane. I personaggi di Dragon Ball spesso si ritrovano in posizioni complesse, articolate, che vengono un po' dai cartoni dei mati del passato, un po' inventate la Toriyama sul momento. Quindi, bel rimando, molto simpatico, mi è piaciuto. E questa era la puntata 2. Anche se non c'era molto da dire, alla fine abbiamo parlato di tante cose. Terza puntata di Dragon Ball Daima è quella che forse mi fa fare un po' più critiche e dove ci sono un po' più ripetizioni rispetto alle prime due e hanno corretto delle cosine qua e là, certo, come nell'introduzione dove si vedevano i vari personaggi della prima saga di Dragon Ball. Tenshinhan non aveva il terzo occhio, questa volta lo hanno corretto, aggiornato, però c'è qualcosa che non va in questa puntata. Mi piace il setting, finalmente andiamo nel regno demoniaco, scopriamo meglio questo mondo, però ci sono tante cose che io le vedevo e mi sembravano un po' delle lungaggini e un po' delle cose troppo facilone. E davvero ci sono tante cose che non mi piacciono di questa puntata, però ha arricchito così tanto la lore di Dragon Ball e comunque l'ambientazione è bella e le animazioni sono belle, è divertente il primo combattimento di Goku nel regno demoniaco e quindi ce la facciamo andare bene, assolutamente, ci divertiamo comunque, però qualcosina da ridire c'è, ma si comincia proprio subito ragazzi, andiamoci sotto perché qua è un massacro. Terza puntata di questa serie che sembra non decollare mai perché di nuovo bisogna spiegare, 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 raccontare, dire tutte le cose che fanno parte di questo mondo, il che va bene quando ci troviamo sicuramente a scoprire delle cose nuove, però secondo me si poteva accorciare molto perché sembra quasi che questa serie, come originariamente doveva essere, fosse più breve l'hanno allungata, ma allungata all'inverosimile, cioè succedono delle cose che certe volte trovi davvero superflue. Quando entriamo nel regno demoniaco e ancora prima di arrivarci, quello che succede secondo me è a volte anche piuttosto ingenuo, tipo vediamo Goku che fa sciocchezze, fa lo stupido e vabbè giocherellone perché è tornato bambino, però questa cosa diventa veramente tosta da sopportare, dentro la navicella letteralmente accarezza il bastone come se stesse lucidando la carota, il bastone si allunga e colpisce il tettuccio della aeronave. Nel terzo mondo del regno demoniaco c'è un puzzo strano, allora dice vabbè posso fare le scorreggio e nessuno se ne accorgerà, poi se ne accorgono lo stesso. Oppure invece di chiamare re goma, lo chiama re tama, che significa palle, scroto, quindi lo chiama re palle. Ok va bene, sono cose che il Goku bambino farebbe, va bene certo, però questo non è il Goku bambino, è comunque un uomo di 40 anni che è diventato bambino e io non capisco che cosa deve essere questo personaggio, veramente non riesco a starci dietro, deve essere serio, deve essere stupido, deve essere perché è bambino, come per quelli che sono diventati neonati c'è un'influenza su di loro e per lui che è diventato bambino c'è bisogno di essere per forza sciocco? Non lo so, non lo sto capendo e questa cosa qua mi manda ai pazzi. Con la nave passano attraverso questo pesciolone che sappiamo adesso chiamarsi maestro Warp che li conduce poi nella stanza dove si sceglie di andare da qualche altra parte, tra cui anche i tre mondi del regno demoniaco, ben evidenziati da tre portelli di colore diverso. Questa cosa qua è sempre interessante perché sì, secondo me c'è un'idea di multiverso qua dentro, si vede che si potrebbe arrivare davvero da qualche altra parte, però non esplorano mai troppo questo concetto e è ovvio insomma, dobbiamo andare nel regno demoniaco. E si viene a sapere che c'è bisogno di un codice d'accesso, noi spettatori già lo sapevamo, Kaioshin non lo sapeva. Se Kaioshin non lo sapeva, ecco questa cosa qua mi fa riflettere un pochettino. Sarà passato forse troppo poco tempo da ciò che ha fatto Babidi, anche perché noi non sappiamo quanto tempo è passato da quando Babidi ha plagiato Dabra e poi è arrivato sulla terra per risvegliare Majin Buu, non lo sappiamo effettivamente, potrebbero essere mille anni come anche pochi anni insomma, quindi non è ben chiaro. E quindi quale potrebbe essere la causa scatenante che ha messo dei codici? Perché se Kaioshin non se lo ricorda ci serve sapere quanto tempo è passato da quando Kaioshin è uscito dal mondo demoniaco per andare nel mondo esterno e poi diventare un Kaioshin naturalmente. E quindi è questa l'informazione che ci manca, perché potrebbe essere che la causa scatenante per mettere dei codici sia stata in realtà la fuga dei Namecciani dal regno demoniaco, oppure una fuga di massa di tutte le creature, può essere poi qualcuno, forse proprio Dabra ha poi deciso di mettere un codice, chi lo sa, chi può dirlo, ci mancano delle informazioni, però questa è una cosa interessante, quindi bello domandarselo, bello rifletterci sopra. Giustamente poi per passare attraverso il Maestro Warp, e tra l'altro c'è da dire che si passa nel Maestro, poi si va nella stanza, il pescinoio ti dice, vabbè vai entra nella stanza lì, poi esci in un altro Maestro Warp nel mondo demoniaco ed esci però dal suo sedere, giustamente quando un cibo viene ingerito prima o poi deve essere espulso. E lì Goku però sta per essere sgamato perché e Gloria dice no no sono del regno demoniaco, devono venire con me, e vediamo Kaioshin mettere la mano sull'orecchio di Goku, gliela trasforma e gli vengono le orecchie a punta. Attenzione che questo non fosse in realtà uno foreshadowing per il futuro perché poi Goku si fonderà a uno con le orecchie a punta per diventare Majin Goku, attenzione segnatevi questo momento. Devo confessare che arrivare nel terzo mondo del regno demoniaco è davvero sognante, cioè un posto da Dragon Quest, è un luogo magico dove ci sono tante cose interessanti, divertenti da scoprire. Ci si interroga ancora di più su come funzionino tante cose, si vede una fauna e una flora molto diversa e anche delle persone naturalmente diverse rispetto a quelle del mondo esterno e sono interessanti da osservare. Anche qui purtroppo ho delle critiche da fare, ma intanto concentriamoci prima su un'altra cosa perché Kaioshin dice che quando era bambino qualcuno appose degli scudi di luce per chiudere i portali che ci sono tra i tre livelli del regno demoniaco. Infatti si vede proprio questo scudo di luce che sembra un po' un dharma induista. Si potrebbe pure rompere, chi lo sa, cioè magari i personaggi potrebbero pure farlo forti come sono. Il fatto che ci si spostasse con il maestro Warp esisteva già quando Kaioshin era bambino, ma non la questione dei codici. Ecco, questa è già un'altra informazione in più che possiamo aggiungere al nostro storico. Prendiamola, mettiamola da parte. La prima cosa che si vede arrivando nel terzo mondo del regno demoniaco è questa statua di Dabra, che fa il simbolo della vittoria, che mi ha ricordato subito Dragon Ball GT, la statua di Goku al torneo Tenkaichi, che fa la stessa identica posa. Ragazzi, come fa a non ricordarvi quella roba là? A voi a dire, eh no, ma quello è il simbolo della vittoria. Lo fa anche Mr. Satan nei cartelloni. Sì, ho capito benissimo, ma quella è una statua. Ed è la statua del re del mondo demoniaco. Ora, questa cosa è molto interessante perché ancora non l'hanno distrutta, quindi forse la gente ancora non sa che Dabra è stato rapito e poi ucciso. Bisogna tenere sotto occhio questa cosa qua perché io pure ho pensato che magari Dabra potesse essere resuscitato in Dragon Ball Diamond per qualche motivo, perché forse Dabra era comunque un buon re per queste persone. Ora lo so che si fanno le statue anche dei tiranni, però chissà, magari era in realtà un bravo re. Stiamo a vedere. Mi sono piaciuti tantissimo i dialoghi tra Gloria e Kaioshin. Se a Goku è stata relegata la parte del fanciullo, sciocco, volgarotto, questi due personaggi invece sono molto furbi, sanno più di quello che stanno dicendo. Kaioshin quando parla con Gloria fa uno sguardo che è proprio reddo, ma proprio attento, attento quando lo guarda. E invece Gloria fa scoprire di sapere molto più su Kaioshin di quanto nemmeno noi sappiamo in realtà. Informazione importantissima all'interno di questa puntata è che Gloria dice. A Kaioshin tu sei un glindiano, vero? Un glindiano, quindi non sono più degli shinjin quelli che diventano Kaioshin, perché viene detto che Kaioshin viveva nel secondo mondo del regno demoniaco, dove dovrebbero esserci i nobili, così dice Gloria. Quindi immagino, primo mondo ci sono tipo i demoni che sono i re più potenti, eccetera, eccetera. Secondo invece c'è la nobiltà, terzo, le classi meno abbienti. Posso immaginare che siano suddivise così? Può essere, però non ci sono informazioni proprio chiarissime da questo punto di vista. E cosa significa, però, glindiano? Ecco, è l'anagramma della parola donguri che significa ghianda. Potrebbe ancora essere vero che, seppure non sono proprio shinjin come sappiamo noi dalle varie guide di Dragon Ball, i personaggi che diventano Kaioshin o comunque i fratelli di Kaioshin vengono da una pianta, da un albero, come si pensava venissero tutti gli shinjin, può essere ancora valida? Questa roba è vera? Non lo so. Oppure è soltanto un riferimento? Cercare di mantenere quella idea dell'albero, anche se non verrà sviluppata. Questo lo possiamo sapere soltanto guardando Dragon Ball Diamond. Vediamo che cosa Akira Toriyama ha cambiato per noi. La critica da fare a questo mondo. Ora, siamo in una realtà dove c'è un gas che rallenta di molto i movimenti. Ed è anche un gas puzzolente che fa credere a Goku di poter nascondere le sue scoregge. Ma tralasciando questa cosa qua, questo gas rallenta tutto e ci sono delle popolazioni, sembrano tipo degli aborigeni, queste popolazioni che vivono all'interno del mondo che usano frecce e lance. Quindi hanno gli archi, tendono gli archi, lanciano le frecce. Goku vuole ripararsi, ma le frecce arrivano lente, perché c'è proprio una resistenza fortissima da parte dell'aria. Proprio le frecce arrivano così, piano piano. Io mi domandano, ma queste creature che hanno sviluppato, vabbè, queste armi, hanno fatto a non accorgersi che sono inutili? Sostanzialmente sono inutili, perché c'è tutta questa resistenza dell'aria. Ma ho capito, sicuramente possono offendere un po' meglio, ma letteralmente un minuto prima vediamo tipo un topo delle praterie, non lo so, un topo saltellante, e corre come un matto, ma va velocissimo. Cioè, come si applica bene questa regola del fatto che è tutto più pesante? Il topo va velocissimo, ma comunque con quelle frecce non riuscirebbero a catturarlo. Che cosa? Quali animali catturano? Animali molto più lenti, ancora più lenti? Si cibano solo di creature più lente che possono essere colpite da quelle frecce lentissime per le quali Goku e Glorio sì, diciamo, si impegnano per riuscire a non essere colpiti, però manco più di tanto, voglio dire. Vabbè, io non lo so. Per me questa cosa qua rimane un po' strana, un po' fumosa. E viene detto che questo gas arriva dai vulcani che ci sono intorno. Cioè, quelle specie di pesche da cui fuoriesce il fumo sono in realtà dei vulcani, ogni tanto eruttano pure, esce fuori un po' di lava, ma non tantissima, e esce fuori sto fumo. Quindi potrebbe essere anche una soluzione. Cioè, forse Dragon Ball Diamond da questo punto di vista crea un problema, ma ti offre la soluzione, perché ti dice letteralmente il gas c'è perché ci sono quei vulcani. Quindi magari se i personaggi distruggessero i vulcani potrebbero muoversi meglio, almeno per il tempo che serve per combattere. Mettiamo anche quest'altra informazione da parte, forse servirà più avanti. Arrivare su questo pianeta e raggiungere poi un insediamento urbano mi ha fatto ricordare veramente tantissimo Star Wars. Chiaramente, Glorio già nel modo di vestire sembra Han Solo. Sembra davvero quel contrabbandiere dal cuore d'oro che potrebbe rivelarsi un personaggio davvero importante, soprattutto bello da scoprire, che può essere molto rivalutato. Per ora noi lo vediamo semplicemente come un tizio forte che esegue degli ordini, che è abbastanza freddo, però in realtà potrebbe nascondere davvero tanti bei sentimenti. Bisogna scoprirlo un po' alla volta questo personaggio. Intanto è già figo così, ripeto, somiglia Han Solo come fa a non piacere. Ma soprattutto c'è tanto Star Wars, come dicevamo, grande ispirazione per Akira Toriyama, per tutto Dragon Ball, che lui ha letteralmente rimasticato e poi tirato fuori prima in Arale, con tante citazioni molto divertenti, poi in Dragon Ball, dove è davvero parte integrante del mondo tutto ciò che accade in Star Wars. Però rifatto alla maniera di Toriyama, che tu manco ti accorgi che sono delle citazioni oppure omaggi, letteralmente le ha fatte sue quelle cose là. E quindi vediamo. Questa città mi ricorda un po' Tatooine, ricorda anche un po' Imechka da Dragon Ball GT, naturalmente. Tutta la situazione ricorda Dragon Ball GT, il che non è un male, perché alla fine Dragon Ball GT uno se lo ricorda che magari non gli piace tanto per via di come alcune cose sono state realizzate, della messa in scena di alcuni eventi, però diciamo che sulla carta era un progetto che poteva funzionare benissimo. Ed effettivamente queste cose funzionano. Arriviamo nell'insediamento urbano, ci sono tutte queste creature, tutti i demoni strani, particolari, c'è quello dell'albergo e Glorio chiede una stanza per la notte e quello gli chiede tanti soldi e Glorio fa io c'ho il ferro. A quella scena lì io ho volato, letteralmente. Qui ho volato perché sì, è lui che tira fuori la pistola e dice quanto? Fammi lo sconto 100%, attenzione, questa è stata particolare come mossa da parte di Glorio, molto divertente. Dopo questa scena di grande intimidazione i personaggi vanno a rifocillarsi all'interno di un bar. Glorio e Kaioshin prendono solo da bere mentre Goku prende 5 hamburger. Ora, questi hamburger sono anche disegnati piuttosto bene, infatti secondo me un piccolo momento attenzione sul food design lo dobbiamo fare anche questa puntata. Lo so, non c'è moltissimo da analizzare, ma più che altro io vorrei anche riflettere sulla natura, sulla scelta proprio di questo cibo. Allora, siamo nel regno demoniaco, Goku ha fame, abbiamo visto che ci sono delle creature in giro per questo terzo mondo demoniaco, vediamo appunto quel topino che saltava in giro, si è vista pure una specie di tartaruga gigantesca, immagino ci siano tante altre creature. Goku si domanda che tipo di carne è stata utilizzata per fare questi hamburger, però Glorio risponde che è meglio non domandare. Quindi siamo un po' dalle parti di Demolition Man con Silverse Stallone, regia di Marco Brambilla. Può essere un topo burger? Vabbè, comunque se fosse topo burger sarebbe sicuramente molto buono. sembra delizioso da come lo mangia Goku. Tra l'altro sono giganti. È vero che Goku è diventato un bambino, è piuttosto piccolo, però questi panini sono letteralmente grandi quanto la sua testa! Cioè sono giganteschi, ma che animale hanno macellato? Cioè quanto deve essere grande per riuscire comunque a doverlo smaltire facendoli panini così grandi? Ora, mi sembra che siano di panini molto semplici, letteralmente con quattro ingredienti. Pane, una salsa, forse potrebbe essere formaggio, ma credo che sia più una salsa, la carne e sotto ci sono altre due fette di quello che potrebbe essere tipo bacon. Diciamo che è un bacon ed è realizzata molto bene. Mi piace proprio la trama che hanno utilizzato per la carne. Quindi si vede effettivamente che sembra grigliata, si vede anche l'amarezzatura per quello che dovrebbe essere bacon, tra molte virgolette. E il panino però è fatto con qualcosa simile al nostro carbone vegetale perché è tutto nero. Ho capito che lo hanno fatto, sapete, perché siamo nel regno demoniaco, quindi mangiano un hamburger oscuro, va bene. Però qui io ce ho da fare un po' una critica, effettivamente, di tutte le cose che potrebbero mangiare nel regno demoniaco, che può essere anche un animale strano di quel mondo arrostito, vanno in un posto dove fanno proprio gli hamburger. Non lo so, mi sembra un po' strano. Mi sembra un po' una cosa troppo americanizzata, ragazzi. Mi sembra proprio quando dici, ah, dobbiamo fare questa cosa qua. Sai perché? Perché se casomai volessimo fare ristorante a tema Dragon Ball Dime, abbiamo pure il panino con il carbone vegetale da vendere. Abbiamo pure un modo per far vedere agli americani che pensiamo all'oro con l'hamburger. Ecco, di nuovo che sento i produttori, che sento la sceneggiatura. Lo so che per molti questa è semplicemente una scena divertente, però nulla è fatto a caso in queste serie. Bisogna riflettere anche su questo. Cioè, adesso sembra che le cose che le fanno, le fanno così, perché gli è piaciuto. Sicuramente c'è un po' d'arte, c'è un po' di voglio fare questa cosa perché ho avuto questa idea, ma questa idea io non riesco a sganciarla da un elemento di produzione. Cioè, non ci vedo niente di artistico, ma ci vedo proprio una scelta ragionata, ben oculata, per raggiungere una determinata fetta di pubblico con questo specifico cibo. Che io mangerei, qualora andassimo nel ristorante a tema di Dragon Ball Dime, assolutamente sì. Nel parco a tema lo mangerei sicuro, centocento ragazzi, perché anche io mi voglio divertire con questo mondo e anche compartecipare economicamente, che poi è l'unico modo vero per divertirsi, perché queste cose si pagano. Anche Dragon Ball Dime lo guardiamo pagando l'abbonamento, quindi è ovvio, si deve sempre pagare. Però non lo so, cioè è bello, è disegnato bene, ma come dicevo non riesco a sganciarlo da un oggetto che è stato messo lì apposta per determinati obiettivi. All'interno del bar comunque vengono accerchiati da un po' di cattivoni che vogliono fargli la pellaccia, per quale motivo non si sa, non è che gli hanno dato fastidio, semplicemente esistono e questi cattivi li vogliono menare. Ora va bene tutto, cioè voglio dire, sai, arriva uno che non conosce all'interno del tuo habitat, dici senti un po' mo ti faccio vedere che io sono il più forte, ti faccio capire che qua non puoi fare quello che vuoi, però veramente non avevano fatto niente, sono solo entrati, hanno preso da mangiare e li hanno odiati subito e quindi mazzate. Anche per questi personaggi cattivi che vivono nel regno demoniaco si soffre la pesantezza dell'aria, quindi sono lenti pure loro. Goku combatte e c'è questa scena che ricorda un po' Drunken Master con Jackie Chan, effettivamente Goku che combatte con i piatti, combatte intorno al cibo, intorno ai tavoli, salta, colpisce gli altri, è veramente una scena che viene da quel cinema vusha che Agira Toriyama ha sempre amato e che non ha mai smesso di citare, tra l'altro Toriyama era grande amico di Jackie Chan, quindi figuriamoci, è anche ovvio che questa scena lo ricordi. Ricorda sicuramente pure un po' Spaghetti Western, qualcuno ha detto ah mi ricorda delle cose tipo Terence Hill e Bud Spencer, certamente diciamo che lo Spaghetti Western, in generale i Western sono una buona ispirazione per Star Wars, quindi Star Wars sicuramente ha reinterpretato degli elementi che poi sono finiti dentro Toriyama e dentro Dragon Ball. Questa scena mi è piaciuta, vedere Goku che combatte e che si abitua e qualcuno mi ha detto non sei contento che adesso combatte senza il bastone? Beh no, perché rende il bastone ancora più inutile, cioè si ha preso il bastone perché doveva accorciare le distanze, migliorare, perché non aveva tutta questa voglia e questo tempo di imparare a usare meglio il nuovo corpo da bambino, il fatto che adesso usa meglio il nuovo corpo da bambino mi fa incazzare due volte se non usa il bastone, ma è altresì vero che si trovava in uno spazio ristretto e quindi forse era meglio combattere soltanto corpo a corpo e senza il bastone, perciò prima di fasciarci la testa aspettiamo almeno la quarta puntata per vedere come usarà il bastone in uno spazio aperto. Giustamente questi cattivoni dopo essere stati pistati rubano la navicella di Glorio e il giorno dopo si ritrovano senza e Goku impazzisce, oh mio dio adesso che cosa faremo? Glorio rimane così, Kaioshin dice no mannaggia tutto, vabbè comunque è successo un casino. E questa roba qua ricorda un po' Dragon Ball GT di quando gli viene rubata la navicella e trovano Giru, se vi ricordate, Ojama Robo che poi mangia il Dragon Radar e diventa lui stesso il Dragon Radar. Infatti nella prossima puntata arriva un nuovo personaggio, il personaggio mascherato, che noi ormai già sappiamo benissimo essere pansi, quindi prossima puntata, incontro frizzantino tra Goku e pansi e mi immagino che nella prossima puntata Goku chiederà aiuto alle autorità o magari tutti quanti per dire ehi ci hanno rubato la navicella e quelli rispondono scusa ma questo tizio qua c'ha le orecchie tonde, qua non dovrebbe proprio starci, giù mazzate. Ora dopo tre puntate di spiegoni potremmo forse riuscire a vedere qualcosa che non è un'altra volta una cosa che si deve spiegare per raccontare il regno demoniaco vedremo davvero un po' di ciccia perché anche io vi giuro l'ho sentita un po' di pesantezza, cioè nel senso in queste tre puntate hanno fatto world building però il world building non si fa con l'esposizione e sì che hanno raccontato tante cose però si potrebbero anche intuire facendoci vedere i personaggi che fanno delle cose, che vivono in quel mondo, che hanno a che fare con altri personaggi che sembrano vivi e non semplicemente dei cartonati che stanno là e agiscono soltanto per il bene della trama, per farla andare avanti. Questa è la cosa che io soffro un po' di più di queste puntate di Daima. Spiegoni, 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 spiegoni perché quando devi riscrivere Dragon Ball devi effettivamente metterci delle cose dentro e io ho capito qual è l'intento e ho capito pure che prima questa serie era breve e poi l'hanno allungata. Però non è che l'hanno allungata, l'hanno proprio diluita. Cioè ragazzi certe volte è proprio tosta guardare le puntate. Secondo me molte persone la criticheranno. Ora io mi sono divertito perché comunque Dragon Ball ci sono delle cose interessanti su cui riflettere anche per parlarne con voi nei commenti. Però ragazzi guardate che solo battute sceme di Goku che fa cretinate e quella cosa degli aborigeni che sparano le frecce lente che non c'ha assolutamente senso per poi andare nella città e vedere quella cosa là un po' alla Star Wars un po' Dragon Ball GT che va bene la reinterpretazione sua di Akira Turiyama naturalmente quello ci sta però il resto diventa un pochino pesantuccio. La stessa identica scena d'animazione riciclata per passare dal maestro Warp dal mondo esterno alla camera dalla camera al regno demoniaco. Cose che si aggiungono e che diventano un po' pesantucce da digerire che ripeto alla fine si fa te lo guardi sono 20 minuti lo so che non è troppo impegnativo però se io voglio riflettere su tutte queste cose finisce che poi ecco le vado a criticare perché si sente proprio che sono storte che qualcosa non va al 100%. Anche senza dovermi attaccare ogni singola cosa che dicono i personaggi quelle cose che sono fondamentali tipo Kaioshin che spiega la nevicella di glorio guarda è veloce è una navicella che ci permette di spostarci anche tra i mondi perché va a magia va bene e allora anche la tua navicella va a magia quella che hai utilizzato per passare dal mondo demoniaco al mondo esterno quella che sta aggiustando bulma bulma è una scienziata che ne sa di magia allora c'è un sistema che trasforma le cose nell'aria in magia per far funzionare questa navicella come funziona sta roba qua come deve tornare nel mio e anche nel vostro cervello cosa penso delle puntate 2 e 3 di dragon ball time ora al netto dei difetti che ho evidenziato di cui vi ho parlato e che molti chiamano retcon ma retcon non sono ragazzi perché è difficile fare una retcon se non racconti mai niente anzi è proprio adesso che akira turiyama stava espandendo la lore raccontando di più il mondo di dragon ball perciò non lamentiamoci nemmeno troppo di questa cosa perché abbiamo delle informazioni nuove e ufficiali su cui discutere perché a volte tanti problemi che noi riscontriamo in dragon ball daima vengono da una nostra conoscenza pregressa delle super exciting guide delle daizzen shu che si sono informazioni ufficiali però non sono state scritte da akira turiyama si magari avrà anche rilasciato qualche intervista nel tempo dove diceva delle cose adesso sembra che si contraddica però è perché in quel momento quando ha risposto all'intervista ha ha detto qualcosa però è adesso che stava davvero raccontando le cose io comunque mi sono divertito perché queste puntate sono interessanti disegnate bene più di qualsiasi altro prodotto di dragon ball fino ad ora realizzato per la televisione davvero fighissimo i personaggi sono pure interessanti le musiche sono molto coinvolgenti è un'anime bello nonostante ci siano dei difetti come sempre vi invito ad iscrivervi lasciare un commento condividere questo video parlarne con gli altri qua sotto trovate tutti i link utili vi ricordo che tutti i giorni faccio live su twitch alle ore 18 tranne nella settimana di lucca perché sono in toscana non sono a casa però i video arriveranno lo stesso non vi preoccupate anzi qua sotto trovate poi le playlist con dentro tutte le prime impressioni le critiche le teorie quelle che a volte sono pure un po illazioni che magari non metto sempre qua dentro le analisi perciò date un'occhiata anche agli altri video fatemi sapere che cosa ne pensate e che bello dragon ball daima